E aspetta solo di essere aperta la bretella del Monte Farno a Gandino, ma i residenti di via Cada P si dicono pronti a bloccare il traffico se prima non verrà realizzato un nuovo imbocco. È stata avviata anche una raccolta firme che ha raccolto una cinquantina di adesioni. Sentiamo cosa ci ha detto uno dei promotori dell'iniziativa. Perché avete promosso questa raccolta firme? La raccolta firme è stata promossa perché il comune di Gandino ha realizzato la bretella di collegamento di via Cada P con il Monte Farno per tagliare l'abitato di Barzizza. Però tutto il traffico del Monte Farno va a gravitare sull'incrocio di via Cada P con via Milano, che già di per sé è molto pericoloso e manca di visibilità. Quindi noi abbiamo fatto questa iniziativa per sollevare il problema che praticamente la via Cada P necessita di un nuovo imbocco che è previsto nei piani regolatori già dal 1976 e mai nessuno ha realizzato. Questo imbocco secondo noi era addirittura prioritario alla bretella del Monte Farno perché questa zona di via Cada P è stata recentemente ampliata come edificabilità. Quindi è diventato un villaggio praticamente e quindi necessita di uno sbocco adeguato, cosa che non è quello attuale, soprattutto dal lato sicurezza. L'amministrazione è sempre intenzionata a mettere semafori intelligenti, secondo voi non è una soluzione valida? Secondo noi no perché blocca il traffico, si creeranno delle colonne interminabili, già si vede adesso quando entra un camion in via Cada P che si incastra, si creano delle colonne lunghe anche più di 100 metri, quindi succederà continuamente una cosa del genere, soprattutto negli orari di punta in cui la gente scende dal Monte Farno. In caso la bretella venga aperta, i residenti cosa sono disposti anche a fare? Da quello che ne so io, i residenti sono disposti addirittura a bloccare la strada, quindi con iniziative di questo genere, pur di costringere il sindaco, se si può dire costringere, ad aprire il nuovo pezzo di strada. Visto che ha garantito, ha detto a loro che per maggio-giugno è pronta, potrebbe anche aspettare pochi mesi e aprire la nuova strada in tutta sicurezza. Grazie 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 Grazie